Il processo di progettazione è iniziato con schizzi, schemi e modelli fisici. Una volta formulata l'idea è stata successivamente disegnata in bidimensionale, tridimensionale e con software parametrici, cercando sempre di ottenere un prodotto in equilibrio tra estetiche e funzionalità. Il Boccaccio 80 viene concepito come uno spazio dove la musica, il design e il buon cibo sono i protagonisti. Sin dall'ingresso nel locale l'ospite viene trasportato verso diversi ambienti dove questi piaceri prendono vita. Entrando una sinuosa balaustra coglie subito l'attenzione. Le onde sonore vengono pietrificate quando sono trabutate in soffitto che a sua volta serve da illuminazione per gli spazi sottostanti. Ogni visitatore diventa il protagonista grazie di spot di luce diretta. Il pavimento in cemento bicolore segue l'andamento delle aree tavoli e delle superfici superiori. La sala da ballo è stata progettata con l'uso di tagli di luce, specchi e carte ed apparati che crea un'atmosfera giovane ed elegante, differenziandosi dalle altre sale del locale. Grazie per la visione! Grazie a tutti!